Sono imparate a fare lavori umili, ma non è il problema del lavoro umile, è il problema della mia dignità di persona, della possibilità che io come persona ho di poter studiare, di potermi formare e scegliere il lavoro che voglio fare, scegliere di mantenere la mia dignità e quindi di non essere sotto il tatto. Grazie a tutti.